Hello guys, io sono Shen ed eccoci qua al classico aggiornamento invernale che faccio più o meno ogni anno a momenti abbastanza randomici e questo è il periodo di questo aggiornamento non mi prungherò troppo quindi sarà un video molto sintetico, veloce, breve ed incisivo Allora, siamo al periodo finale dell'anno anche quest'anno è stato un bellissimo anno, pieno di gameplay, voltru, video di varie nature e genere tanti miei giochi, tanti miei titoli, tante belle novità così posso chiamare novità e però voglio tra virgolette dall'anno a venire, quindi da 2024 prendermi una, non una pausa, diciamo alleggerire un po' il carico in che modo? Ve la faccio in versione molto approssimativa sto vedendo se continuare con la programmazione di un video al giorno perché comincia ad essermi un pochino complicato starci dietro e soprattutto ancora più complicato è la programmazione che sto ottenendo perché come sapete, avete visto, lunedì c'è una serie che poi c'è il lunedì dopo il martedì c'è una serie che c'è il martedì dopo e così a seguire sto vedendo se riorganizzare un po' la cosa e appunto portarvi magari un video sia un video no di una serie o magari due serie in contemporanea che si alternano i giorni escludendo ovviamente i video degli spacchettamenti i video delle riserie di Arson che quelli rimarranno fissi in quelle giornate per il momento è tutto quanto da vedere inoltre voglio approfittare di questa parte finale dell'anno comunque della prossima settimana o di quella venire ancora per smaltire un po' di fullplay perché ho tanti titoli che ultimamente ho finito e come ben sapete una volta concluso propongo anche un video fullplay di qualità un minimo minore non arriva a 1080p ma arriva a fine 720p però che può essere guardata tutta quanta ad un fascio senza passare da un video all'altro per alcuni mi è stato detto che è più comodo per altri meno però io nel dubbio ve li carico lo stesso poiché comunque in questo periodo qua di contenuti da caricarli ne ho molto pochi ammetto ne ho veramente molto pochi e penso che sia il momento migliore di approfittarne di fare un po' di montaggio di fullplay e caricarli bene questo era alquanto quindi buon periodo di inizio inverno anche se siamo già entrati in un periodo autunno inverno da un po' ma a dettaglio tecnico e noi ci risentiamo a breve con un altro video aggiornamento verso la fine di dicembre più o meno e qui la vostra scena è tutto ci vediamo e ci sentiamo in un prossimo video bye bye ciao